Sì, sì, il modello non l'abbiamo certo inventato noi, però il punk abbasco secondo me sono stati i primi da due anni. Insomma, questa signora poi si è scoperto di essere un pistoro, un artista, senza dimmi nulla, ma il maestro Milano è un diritto dell'ufficio e ci ha mandato 10 stanto dei suoi quadri, proprio ha fatto con tanto di ringraziamento, gli hanno dato pure, datele pure ai vostri soci o datele a chi vi sosterrà. Insomma, speriamo di riuscire a creare un ecosistema positivo. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Sì, è passato come messaggio. Sala 1, sala numero 2. Un ringraziamento da parte mia va sicuramente a voi che avete partecipato, a tutte le organizzazioni, i business che ci hanno supportato all'evento o che hanno comunicato all'evento o che oggi l'ha reso proprio possibile. Al Comune di Brescia, all'Università, per l'Occidante Patricini e passo anche al Davide. Beh, non posso che confermare l'ingraziamento di Fabrizio, mi sembra che sia stata una splendida giornata, spero che anche per voi sia stato così. Quindi cercheremo di raccogliere tutte le slide degli interventi che ci è possibile pubblicare e pubblicarle su www.faneweb.com e anche sul sito del giornale di Brescia. Se possibile, se ce la facciamo, pubblichiamo anche i video quest'anno. Ci proviamo, è sempre una sfida, una sfiga. Quindi tenete d'occhio il sito, tenete d'occhio, seguiteci insomma su Twitter e su tutti i canali che abbiamo preso tanto oggi in modo da tenerci in contatto e speriamo di vederci magari anche per l'innovazione della possibilità di fare l'interno. Semplicemente grazie e ci vediamo con l'innovazione numero 3.